eccezionale, tesa sul primo palo dove ha attaccato Gabbiadini, qui rivediamo lo scarico, ottima l'esecuzione e Gabbiadini non ha avuto paura assolutamente grande coraggio perché ha messo la testa là dove il difensore ha messo il piede assolutamente, infatti qui l'Italia ha cambiato, non ha messo più la palla a base prima con i piedi abbiamo sbagliato tantissimo, proviamo di dire ma qua è da rivedere, straordinario qui vedi è uscito fuori dalla mischia, un passo indietro, il limite dell'aria la rapidità di esecuzione veramente di altissimo livello qui tutta la rabbia, grande coordinazione, due gol non ci ha potuto fare nulla Gullaccio assolutamente, guarda qui l'angolino, perfetto doppietta per Manolo Gabbiadini